La pioggia che continua a cadere, che questa mattina è stata anche decisamente copiosa e le code. Nel nostro territorio oggi molti disagi legati al ritorno del maltempo. Previsioni che tra l'altro lasciano ben sperare poco per le prossime ore. Ancora brutto, ancora incertezza, variabilità e tante nuvole come quelle che potete vedere in questo momento. Ovviamente non mancano anche i disagi sulle strade del nostro territorio. Varie code, vari rallentamenti, un po' ovunque.